Oltre 45.000 ragazzi, dalle materne alle superiori, pronti a tornare sui banchi di scuola il prossimo 16 settembre. Loro sì, ma gli insegnanti un po' meno, non perché non abbiano voglia di insegnare, ma perché proprio non ci sono. Qualche cattedra potrebbe infatti rischiare di rimanere vuota, colpa di un sistema tutto italiano che costringe ad un mese di superlavoro provveditorato e successivamente dirigenti scolastici, soprattutto durante l'estate. Ma non basta. Mancano i professori di materie fondamentali, come ad esempio la matematica, e mancano gli insegnanti di sostegno. In tutto questo grande riordino della scuola, il problema è che i nostri figli, i figli che hanno 104, quindi hanno ulteriori bisogni, bisogni speciali, arrivano sempre in fondo. È chiaro che il provveditorato mi parla addirittura di grandissime mancanze di insegnanti di matematica, di fisica, quindi non si sta parlando di cose piccole. Però la nostra paura, che come al solito si inizi con il fatto che gli insegnanti di sostegno non preparati, che magari entrano al lavoro dopo un mese, due o anche tre di scuola, che non sono mai gli stessi, che non sono formati, ecco queste sono purtroppo tutte gravi mancanze. Io capisco che non è un problema di Arezzo, ma è un problema intanto regionale molto grave, per questo diciamo che l'interlocutore finale sarebbe la regione, perché poi è la regione che cerca di intervenire per contro del ministerio. Però è un problema italiano, è il solito problema della non considerazione del mondo scolastico, su cui si fanno grandi campagne elettorali, grandi dibattiti, tutti i governi annunciano cose strepitose, però poi alla fine siamo qualche giorno dalla scuola e i problemi, come abbiamo detto, novità, ma i problemi vengono sempre gli stessi. Quindi noi abbiamo lanciato questo appello sia al mondo della scuola, e sono contento che almeno il provvedorato, io ho parlato con la responsabile, ha risposto subito, dando massima disponibilità, spiegando, anche a spiegare nel dettaglio cosa sta succedendo, che chiaramente io comprendo, ma non sono molto d'accordo, sulle scelte fatte dal ministero, e d'altra parte si ha anche un appello alle famiglie, per dire che qualora ci siano veramente i problemi che diventano, si incancreniscono, che diventano strutturali, noi come associazione, come abbiamo fatto più o meno tutti gli anni, interveniamo fin dove possiamo arrivare, anche attraverso le vie regali, il sostegno alle famiglie, se ci sono proprio delle mancanze di diritto, dei problemi che vanno oltre il semplice, ma anche un professore un giorno, insomma, perché questo sta succedendo.